Il tag ha 16 counts, 16 passi, si tratta di 4 rolling vines, il tag lo troviamo ad ore 6. Allora, il primo rolling vines che parte con la gamba destra lo faremo girando sul lato verso destra, quindi parte il piede destro girando di un quarto, di mezzo col piede sinistro, di un altro quarto e girerò all'interno il ginocchio sinistro, conterò fino a 4, quindi 1, 2, 3, 4, stesso identico movimento per arrivare sull'8 verso il lato sinistro, 5, 6, 7, 8. Adesso il prossimo rolling vines, siamo ad ore 6, ripeto, è in avanti, non all'indietro, in avanti, porto avanti il piede destro, mi giro di mezzo sulla destra portando indietro il piede sinistro, porto sul conteggio 3 indietro il piede destro e ruoto il ginocchio sinistro in dentro, sul conteggio 4, quindi da qui conto 1, 2, 3, 4, sul 4 dobbiamo essere rivolti a ore 12 col peso sulla gamba destra e da qui completo rolling vines in avanti, girando sulla sinistra, 5, 6, 7, 8, col peso sulla gamba sinistra, quindi ripetiamo il conteggio, siamo a 2, 6, parte la gamba destra, sul lato a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.